ricordati di santificare le feste questo è il terzo comandamento e quindi che vorrà fa domani è il carbonara dei già sapete cosa dovete fare anzi per fare una carbonara top c'è bisogno di prodotti di altissima qualità e da noi come sapete li potete trovare a partire da un bel pecorino quello romano quello che fa la goccia no il parmigiano poi ci mettiamo un bel guanciale sempre quello buono la pancetta no ma neanche l'olio l'olio non serve fa tutto lui poche manca le uova se ci avete quelle fresche a casa è meglio se non le comprate sempre da noi un bel po di pepe perché il pepe sta bene e la pasta quella buona quindi ragazzi ricordiamoci di santificare le feste e viva il carbonara dei un saluto